31 anni insieme di premio nazionale Paolo Borsellino, un'eredità importante lasciata dal giudice assieme a Giovanni Falcone. Quale eredità? Per una riflessione condivisa verso una società migliore. La cerimonia di premiazione per la prima volta all'Aquila. Oggi tantissime personalità hanno partecipato con il presidente del premio, l'ex questore dell'Aquila Vittorio Rizzi, che ha premiato tutte quelle persone che si sono contraddistinte nella loro azione per il loro impegno a favore di una società giusta e meno violenta. Testimoni di quest'azione di sensibilizzazione premiati come il generale Michele Carbone, Don Antonio Coluccio, il magistrato Caterina Chinnici e tantissimi altri, tra i quali il procuratore capo di Palermo, per dieci anni nella direzione distrettuale antimafia di Palermo. Perché è un momento in cui si fa memoria e la si fa anche in una terra non particolarmente vicina alla Sicilia. Quindi è importante che si ricordi il nome e la figura di Paolo Borsellino e che si dica ai giovani qual è stata la storia di Paolo Borsellino. Un esempio per tutta l'Italia, un esempio per chi fa il magistrato, ma un esempio per chi è cittadino. Per questo è un valore e questa è la ragione per cui io sono stato molto contento di essere stato invitato per questo premio. L'arresto di Messina Denaro, questo territorio lo ha ospitato nei suoi ultimi giorni di vita e nella sua ultima detenzione. Vuol dire che chi la dura la vince, ma la strada è ancora lunga. No, la strada è certamente lunga perché la storia della lotta alla mafia è una storia molto lunga. Dopodiché però è una storia in cui ci deve e ci può essere un solo vincitore che è lo Stato. Lo Stato anche nell'episodio della cattura di Messina Denaro ha dimostrato di essere più forte della mafia. Il padrone di casa è stato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Il premio ormai è parte integrante della città. Chi come me ha fatto politica in quegli anni abbiamo trasformato l'impegno ideologico in impegno civile proprio grazie all'esempio di queste persone. Dopo la stagione delle stragi dei primi anni 90 ci fu una reazione di popolo che fu interpretata soprattutto dai giovani con le primavere che si verificarono nella città di Palermo e non soltanto. Il compito di questo premio è soprattutto rinnovare quell'impegno e dichiarare che la criminalità organizzata può essere sconfitta e deve essere sconfitta. Grazie. Grazie.